Dopo la comunicazione ufficiale data dall'azienda ospedaliera Università Sant'Anna di Ferrara sulla riva maggio della sperimentazione Brave Dreams, il consigliere regionale del PDL Mauro Malaguti ha chiesto in questi giorni alla regione quando potranno essere effettuati nel nuovo polo ospedaliero di Kona a Ferrara i test per la diagnosi di CCSVI dall'equipe del professor Zamboni. I test non sono invasivi, dice Malaguti, ma finora nessuno ha detto nulla al riguardo. Il centro di Zamboni è la domanda implicita del consigliere. Dovrà dunque limitarsi nei prossimi mesi a partecipare alla sperimentazione senza più fare diagnosi se non sui pazienti selezionati per lo studio nazionale? Ma non è questo il solo problema aperto. Proprio da Ferrara infatti arriva lo sfogo di alcuni malati di sclerosi multipla. La neurologia del Sant'Anna, dicono, si è rifiutata di partecipare alla sperimentazione, perciò, secondo i criteri di ammissione, noi ne saremo automaticamente esclusi. La ragione del paradosso è che la neurologia, avendo deciso di non partecipare, non candiderà nessun paziente alla sperimentazione, nonostante la disponibilità e il desiderio di molti di loro di parteciparvi. È un paradosso curioso, dice uno di loro, che con durezza denuncia una situazione di scontro fra neurologia dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e la chirurgia vascolare. In ogni caso, aggiunge le ragioni della scelta della neurologia, che pur mantenendo un rigoroso silenzio stampa sull'intera vicenda, non ha mai fatto mistero nelle sedi opportune di non credere al metodo Zamboni, ci sembrano davvero poco scientifiche. Perché? Se il metodo Zamboni, aggiunge, sarà validato, i malati ne trarranno giovamento. Se questo non dovesse accadere, chi avrà partecipato allo studio avrà comunque contribuito a verificare un'ipotesi scientifica. Ma se la sperimentazione, diciamo noi, che partirà a maggio nei 20 centri accreditati, potrà avere fra i pazienti solo i malati seguiti dalle neurologie di ogni singolo centro, a Ferrara, che è il centro promotore della ricerca e dello studio, chi sarà ammesso alla sperimentazione? I criteri di ammissione, si legge sul sito dell'ospedale alla voce Brave Dreams, sono chiarissimi. Saranno ammessi allo studio malati di sclerosi multipla e CCSVI tra i 18 e i 65 anni, che lo chiedano, poiché presentino forme cliniche recidivanti, remittenti e secondariamente progressive, siano stati seguiti da uno dei centri partecipanti da almeno due anni e siano selezionati dal neurologo curante sulla base dei criteri stabiliti dal comitato etico. Ma se la neurologia del Sant'Anna non intende come, fra l'altro, il suo diritto prendere parte allo studio, i malati in cura presso di essa, anche se disponibili alla sperimentazione, si vedranno automaticamente esclusi, né potranno sperare di essere accettati da altri centri, perché ognuno di essi darà la precedenza ai propri pazienti. La scelta della neurologia ferrarese, dice il nostro interlocutore, è ingiustificabile, perché rifiutarsi di partecipare ad una sperimentazione scientifica non ha nulla precisa di scientifico. Quanto a noi, non abbiamo certo le competenze per intervenire sul merito delle scelte dei medici, ma ci sembra doveroso sottolineare, oltre al paradosso, la simmetria tra diritto del malato di chiedere di essere ammesso alla sperimentazione requisiti permettendo e diritto dei neurologi di restarne fuori. Una simmetria, che dovrebbe essere presa in considerazione da Sant'Anna, se vorrà davvero tutelare i diritti di tutti.